La scelta della Meloni di aderire ai conservatori europei le ha permesso di non subire il «cordone sanitario», che una parte dell'establishment europeo ha costruito attorno al gruppo di Le Pen Salvini AFD. Come cambierà lo scenario con l'uscita di Orban dal PPE? L'analisi di Francesco Giubilei Sono giorni frenetici nella politica europea dopo l'uscita di Fidesz, il partito del premier ungherese Orban, dal PPE. Si è molto parlato del nuovo gruppo a cui starebbe lavorando il leader della Lega Salvini ma, al netto di un progetto in divenire, in seno al Parlamento europeo c'è già un gruppo La scelta della Meloni di aderire ai conservatori europei avvenuta nei mesi precedenti le elezioni del 2019, si è rivelata vincente sotto numerosi punti di vista permettendole di entrare a far parte di un gruppo che non ha subito il «cordone sanitario», che una parte dell'establishment europeo ha costruito attorno a «identity and democracy». Al tempo stesso, dopo la Brexit, l'ECR ha raccolto l'eredità dei conservatori inglesi con una vocazione a forza di governo rappresentata dal PIS polacco. Fratelli d'Italia rappresenta la seconda compagine parlamentare nell'ECR ma, dopo l'elezione di Giorgia Meloni a presidente, il peso specifico del partito è notevolmente aumentato rinsaldando anche un asse di conservatorismo latino con gli spagnoli di Vox. Non è un caso che ieri Meloni e Santiago Abascal abbiano pubblicato un comunicato congiunto affermando «le delegazioni di Fratelli d'Italia e Vox al Parlamento europeo continuano a lavorare per rafforzare l'ECR, la vera casa dei conservatori europei, insieme, oggi e domani, per un'Europa di nazioni sovrani». Grazie a tutti! Grazie a tutti.